... Brillante operazione della Guardia di Finanza, sequestrata in porto 76 kg di Ascici. Il carico era nascosto in un mezzo proveniente da Barcellona. Cerenova, dopo quasi un anno di indagini sterrate, i carabinieri hanno arrestato gli autori dell'omicidio di Mario Cuomo, il benzinaio ucciso dopo una rapina. Ok in line, la CVSketting replica a Calcagno, il palla Mercuri non è una sua proprietà privata. Buongiorno e bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Provincia TV. 76 kg di Ascici, presumibilmente destinati a invadere il mercato della capitale, sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza al porto. Il prezioso carico era nascosto in un mezzo appena sbarcato dalla nave proveniente da Barcellona, come sentiamo nelle nostre interviste. Una brillante operazione della Guardia di Finanza, 76 kg di Ascici sequestrato in porto. Come si è arrivati a questo sequestro? Sì, dunque abbiamo effettuato un'attività di controllo sotto bordo rispetto alla nave che arriva da Barcellona e a seguito di un'attività di analisi anche effettuato in collaborazione con la Direzione Centrale di Servizi Antidroga e con la Polizia Autonoma Catalana, i Mossos de Squadra, abbiamo individuato un mezzo pesante che aveva ai nostri occhi delle anomalie. Sottoposto a controllo il mezzo pesante è stato rinvenuto lo stupefacente in un'ingente quantità al di sotto del pianale del letto dell'autista. La sostanza è di due qualità diverse, come si può notare, ed è contrassegnata rispettivamente da due loghi che sono apposti come a voler identificare il produttore o il fornitore dell'Ascici. Una tratta, quella con Barcellona, che è sempre sotto l'occhio della Guardia di Finanza? Sì, assolutamente, è una tratta importante per noi perché è una tratta che consente in modo abbastanza frequente di individuare dei carichi di droga ma anche di altri materiali che poi vengono sottoposti a sequestro perché non in regola con le normative italiane. Un'attività svolta dalla Guardia di Finanza in modo sinergico con l'Agenzia dei Dogani che opera anche se all'interno del porto e qui poi alla fine trova un soddisfacimento anche con l'ausilio di altri enti come la Direzione Centrale di Servizio Antidroga nel caso specifico, evidentemente anche dalla Procura della Repubblica Locale che ci dà sempre una grossa mano, un grosso aiuto. Quindi questo è il segno tangibile di un'attività quotidiana, sinergica che è connotata sicuramente da elementi di efficienza ed efficacia. Il prezioso carico, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 400 mila euro l'attenzione sui controlli antidroghe massima sul territorio. In questi primi mesi la Guardia di Finanza ha individuato circa 140 persone con stupefacenti segnalandole, denunciandole, oltre ad arrestarle. Cambiamo argomento ma è sempre cronaca di arresti dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia in collaborazione con i militari del nucleo investigativo di Ostia per l'omicidio di Mario Cuomo, il benzinaio ucciso lo scorso agosto a Cerenovo durante una rapina al distributore situato sull'Aurelia. I killer sono stati incastrati dai testimoni e dalle tracce rinvenute sullo scooter. Vediamo il servizio. Lo scooter rosso, un aggiriti 150 marca Kaimco, abbandonato vicino alla casa di un complice. I filmati video dei quattro minuti trascorsi per commettere rapine ed omicidio, le testimonianze, i tabulati telefonici, le intercettazioni, il DNA, il tatuaggio e il giorno antecedente e il delitto. Sono questi gli elementi sui quali hanno lavorato per mesi i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, diretti dal capitano Lorenzo Ceccarelli, in collaborazione con il nucleo investigativo di Ostia, che all'alba di ieri hanno eseguito l'arresto di tre dei quattro responsabili dell'omicidio di Mario Cuomo, il gestore di un distributore di carburanti Total Erg di Cerenova, situato al chilometro 43 dell'Aurelia. Mario Cuomo è stato ucciso al culmine di una rapina, avvenuta il 9 agosto 2011, quando due uomini, travisati da caschi integrali, ferirono gravemente anche il fratello della vittima, Giancarlo, 50enne, tuttora in gravi condizioni di disabilità. In manette sono finiti Gianpaolo Contini, 59 anni, già detenuto a Re Bibbia, e Alessandro De Angelis, 50 anni, noti pregiudicati romani, presunti autori della tragica rapina e dell'omicidio, anche se non è ancora chiaro chi dei due abbia premuto il grilletto. In manette anche un terzo uomo di Cervetria, Merigo Raschielli, 42 anni, mente del piano criminoso e cliente di quel distributore. Raschielli, nell'occasione, avrebbe fornito supporto informativo e alloggio ai due rapinatori. C'era anche una quarta persona, Michelangelo Fiorani, deceduto però lo scorso gennaio, in fase di indagini ancora in corso. Tutti dovranno rispondere di omicidio e tentato omicidio pluriaggravato, rapina pluriaggravata, porto abusivo aggravato di armi e ricettazione aggravata dello scooter. Gli autori del delitto spararono proiettili calibro 9, prima al fratello Giancarlo, ferendolo alla spina dorsale e poi a Mario in testa, colpendolo a morte. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due, a volto coperto, erano Contini e De Angelis. Le descrizioni fornite da alcuni testimoni hanno aiutato a identificare lo scooter usato per effettuare il colpo e poi ritrovato due giorni dopo, abbandonato vicino casa di Raschielli, in località Cerquieto, a Cervetri. In poco tempo gli inquirenti hanno scoperto che si trattava dello stesso scooter utilizzato dai due malviventi il giorno prima dell'omicidio, quando cioè pedinarono un dipendente di una società che spesso viaggiava con soldi contanti, anche 15.000 euro a volta. Sullo scooter, inoltre, a seguito dei rilievi scientifici dei RIS, sono state ritrovate tracce di sangue appartenenti a Mario Cuomo, una prova schiacciante alla quale si è poi aggiunta l'impronta digitale sul parabrezza della Megane di Raschielli e sul due ruote, il conducibile a Contini, e l'impronta biologica, il DNA appunto, di De Angelis sulla maniglia della sella del Caimco. Di grande aiuto anche le impronte rinvenute sugli indumenti delle vittime, grazie poi all'esame del traffico telefonico ed alimenti rinvenuti durante le perquisizioni, i militari sono riusciti a risalire alla responsabilità di Fiorani e Raschielli, rinvenute anche alcune foto della pistola della rapina che ritralgono alcuni tatuaggi sul polso degli autori. E si terrà questo pomeriggio alle 17.30 con partenza da Piazzale del Pincio e arrivo a Piazza Fratti e la marcia per il lavoro promossa da CGL e Cisle Will, una manifestazione che spiegano che alla luce di una crisi occupazionale sempre più acuta e drammatica assume un'enorme rilevanza. L'obiettivo è quello di evidenziare per l'ennesima volta una condizione di sofferenza drammatica del territorio dettata da una crisi che sta provocando una progressiva perdita di posti di lavoro e un aumento enorme della disoccupazione. Intorno a questi temi, CGL e Cisle Will chiedono l'attenzione della regione e della provincia affinché spiegano si apra quel tavolo interistituzionale sollecitato da tempo. Il capogruppo del PDL Gianni Moscherini e primo dei non eletti Patrizio Carraffa hanno presentato un ricorso al Tar del Lazio per l'attribuzione del decimo seggio alla maggioranza. L'opposizione si è basata sulla sentenza 2.928 del 21 maggio 2012 che stabilisce che la percentuale del 60% dei seggi esprime il numero massimo dei seggi attribuibili a titolo di premio di governabilità. Sicché non si può far luogo ad alcun arrotondamento dei decimali l'unità superiore non potendo mai essere superata per effetto dei decimali la percentuale del 60% dei seggi attribuibili alla coalizione collegata al sindaco Vincente. Secondo questo pronunciamento dunque l'attribuzione dei seggi in consiglio che è stata effettuata con l'arrotondamento per eccesso e quindi assegnando 15 consiglieri alla maggioranza e 9 all'opposizione potrebbe essere invalidata. Borgata Aurelia completamente al buio e pochi lampioni ormai fatiscenti e pericolosi sono quasi tutti spenti. Gli abitanti della borgata spiegano i residenti siamo considerati cittadini civile vecchiesi soltanto quando serve cioè durante la campagna elettorale. Serve un intervento immediato. E' finita tra quina la fuga di padre e figlio presunti autori dell'omicidio del 21enne Giuseppe Sannino che aveva tentato di vendicare l'accoltellamento dell'amico da parte di un 15enne un delitto consumato se lunedì pomeriggio a Caravita nel Napoletano a seguito di una lite tra bande per motivi passionali. In azione i carabinieri della tenenza di Cerco in provincia di Napoli in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Tuscania i militari hanno sottoposto a fermo di PM per concorsi in omicidio detenzione e porta bussivo di arma da fuoco il padre un 39enne sorvegliato speciale il figlio un ventenne entrambi gennoti alle forze dell'ordine. E la stagione estiva a Santa Marinella come non è mai stata vista allo stadio comunale di Via delle Colonie arriva Summer Dreams 2012 Santa Marinella in festa che è messa dedicata a musica, danza, teatro e sport in scena tutti i venerdì, sabato e domenica da venerdì 29 giugno al 12 agosto la manifestazione organizzata dall'Unione Sportiva Santa Marinella Calcio Chiara Campani è patrocinata dai comuni di Santa Marinella Tolfo e Lumiere preziosa anche la collaborazione della protezione civile Pro Pirgi. E' importante riunione tra i capi gruppo di minoranza Carlo Muccio la Paola Rocchi e Emanuele Pepe il delegato della raccolta differenziata Marco Maggi l'ha detto all'ufficio igiene del comune Fabio Mazzarani sulla questione relativa al progetto porta a porta dei rifiuti urbani a Santa Marinella nel suo intervento Maggi è stato molto duro nel giudicare l'operato della ditta GESAM l'impresa che ha in appalto la raccolta differenziata. La nostra pagina sportiva dura repliche della CVSketting al presidente dei pirati occhi Line Calcagno che non voleva sentir parlare di bando circa l'impianto Pala Mercuri Calcagno si rassegna il Pala Mercuri non è una proprietà privata ma un impianto comunale dedicato alla disciplina dell'occhi e pattinaggio il bando non è di certo una nostra idea ma una soluzione proposta dal delegato all'impiantistica sportiva Patrizio Scilipoti non abbiamo il potere come ovvio di decidere circa le sorti di impianti sportivi comunali d'altronde oggi il campo costruito con ingenti soldi pubblici è desolatamente vuoto ed è giusto che chi pratichi occhi e pattinaggio abbia diritto ad avere degli spazi in modalità concordata con il comune i pirati hanno attualmente un impegno preso con l'amministrazione di 67 mila euro di cui ne hanno onorati solamente 30 come se vince dai documenti scritti di altre opere e lavori non ci risultano autorizzazioni o progetti approvati dal comune ma su questo l'unico poterne essere certo è proprio il pincio domani si decide il futuro del civile vecchia calcio forse condizionale d'obbligo ormai visti i precedenti con riunioni e conferenze stampa assaltati all'ultimo istante dopo essere stati annunciati verso l'ora di pranzo poco dopo dovrebbe quindi esserci l'assemblea dei soci che ratificherà l'ingresso dei nuovi membri di maggioranza e quindi un effettivo passaggio di proprietà nelle mani di De Pasquale domani ci riuniremo afferma il presidente Clemeno io con anche la delega di mia moglie e quindi con i due terzi e Tersigni le possibilità sono sempre quelle o rimanere con una corda forte di imprenditori civile vecchiesi cedere la maggioranza a Tersigni che essendo già un socio ha la priorità o la possibilità di fare entrare De Pasquale in maggioranza in questo caso rimarre comunque in società versando la mia quota che ho già stabilito anche nel caso in cui fossi il presidente proprio l'imprenditore di Crotone però da l'affare già per fatto domani acquisterò la civile vecchia da dopodomani comincerò a lavorare per fare la squadra e costruire un grande club nerazzurro la terza tappa del Beach Team.net Tour 2012 disputata a Santa Severa ha visto stravolgere le solite gerarchie complice all'infortunio del favorito Parisi a vincere la tappa è stata la coppia composta da Maria Rosa Nitra e Beppe Ruggero il primo successo da quando militano in questi tornei ed era la nostra ultima notizia grazie a tutti per averci seguito ci vediamo questa sera alle 19.45 sempre con l'informazione sempre su Provincia TV grazie a tutti